Masullo, dopo l'arrivo di Di Matteo è aumentata la concorrenza, questo è uno stimolo oppure ti stai abbattendo? No, assolutamente, sicuramente è uno stimolo. La mia intenda è quello di dare il 100% in allenamento e per farmi trovare pronto appena il mister mi chiama in causa. Anche perché hai dimostrato già che ti sai riscattare, perché rititolare, poi hai perso il posto, poi hai fatto una striscia di partite. Sì, diciamo che la mia qualità è quella di stare sempre concentrato, anche in allenamento e allenarmi al 100%. Poi quando cercherò di mettere in difficoltà il mister, come ho fatto sempre durante la settimana, poi farà lui le scelte. Senti, ancora hai avuto un bello spunto a 10 minuti dalla fine. Sì, ho provato a sbloccare il risultato, forse non è andata benissimo, però va bene così. Prossima partita con il Gubbio, bisogna dire che loro sono un po' in calo, almeno a livello di risultati, però non dovete farvi trarre in inganno. No, anzi sono un'ottima squadra e sarà una partita sicuramente difficile, come è stata quella di domenica ad Ancona. Noi dovremmo affrontarla a viso aperto e penso che può essere una bella partita dove possiamo portare qualche punto in più a casa. Sì, da parte nostra del gruppo non c'è nessun problema, anche con i ragazzi che sono arrivati fino adesso siamo un bel gruppo, quindi non c'è problema chiunque arrivi. Sì, adesso comunque siamo lì e cercheremo di giocarci fino alla fine al massimo.